crisi ma che dici un radio dramma originale di gianfranco faini con simonetta tradati alice modonesi gianfranco faini e per la prima volta stefano gustinelli non ce la faccio sono in crisi caro sergio hai bisogno di soldi mario siamo vecchi amici se vuoi no grazie sto bene il problema è come gestire il mio rapporto in che senso voglio lasciare paola dopo così tanti anni di matrimonio non siamo sposati questo non legittima una tua posizione di separazione come fosse poca cosa hai ragione pensaci bene caro amico mio sono in crisi non mi dire che hai già una trentenne che ti aspetta da qualche parte non è così sai che te lo direi bentornata paola buongiorno dottoressa si accomodi credo di avere un nuovo problema sull'ansia o sulla paura della morte voglio mollare mario il mio compagno è invecchiato il suo invecchiamento rappresenta un problema è maledettamente ripetitivo ciabattaio non ama viaggiare come un tempo e non vuole mai fare festa con gli amici basta è venuta da me per trovare un modo per lasciarlo o per non stare male lei stessa tutti e due dottoressa e non so come fare mi aiuti di certo non le dirò come lasciarlo ma possiamo parlare di come affrontare il suo problema lui averte lo stesso disagio nel rapporto per me no secondo me vive nel mondo delle nuvole buongiorno dottoressa voglio lasciare la mia compagna ah sì immagino abbia buone ragioni certo voglio più spazio per me il mio tempo si sta accorciando e non voglio sprecarlo condividere il suo tempo con la compagna è sprecato è sicuro mi sticciamo su dove andare su cosa fare chi incontrare non parliamo poi del sesso non interessa trovare un punto di incontro affrontare l'amicizia in modo diverso e poi sesso sesso forse è questo lo snodo il nocciolo duro frequenta un'altra donna no ma ci sto pensando ciao carissimo sergio come stai bene sento un po col freddo ma per il resto non posso lamentarmi io invece non sto bene i soliti mal di schiena di stagione un male interiore intestinale no è che sono stanca di vivere in coppia con mario e con chi se no voglio uscire da questa storia lo dici come se fossero pochi mesi sono molti anni non sopporto la sua pigrizia e non vuole più fare sesso scusa se mi permetto ti stai guardando in giro sì ma non pensare sia solo quello è particolarmente noioso e ripetitivo e poi ha ricominciato a fumare potresti parlare con uno psicologo già lo faccio ma prima o poi lo devo affrontare quello non so come definirlo sei tu amore amore un cornetto sono stanca di te se fossi in te andrei da uno psicologo ci vado da anni tu devi andarci anche io ci vado da anni soldi sprecati per decidere di lasciarmi devi chiedere consiglio ad uno psicologo lascia perdere pensiamo a come dividere le nostre vite wow hai le idee chiare sai che pensavo la stessa cosa buonasera ragazzi grazie per l'invito a cena ho portato una bottiglia di bollicine che festeggiamo la nostra separazione crisi ma che dici un radiodramma originale di gianfranco faini con simonetta tradati alice modonesi gianfranco faini e per la prima volta stefano gustinelli grazie per l'invito a cena